Musica Ciao a tutti, io sono il tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video di Ori and the Blind Forest Ragazzi, questo gioco mi piace sempre, sempre, sempre di più Lo sto adorando davvero Ora dobbiamo andare di qua Lo sto adorando sul serio ragazzi, nella maniera più assoluta E vorrei che voi lo adoraste allo stesso modo Ma mi rendo conto che questa non è una cosa possibile Ma in ogni caso, lasciate per chi segue questa serie, lasciate subito Riusciamo a raccogliere, riusciamo a raggiungere questo tipo che è la nostra maledettissima perla d'acqua Mi sa che ce l'abbiamo fatta ragazzi No Allora, vi dico Vi dico solo che questo è stato considerato E non sto scherzando Uno dei platform più difficili di questa generazione Cioè, non sto scherzando Uno dei platform più difficili Ok, vai, vai, vai Ok, ok, ce la possiamo fare Ce la possiamo fare No, 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 no Dop, 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 dop Sono stupida, sono stupida, sono stupida Ok No, devo No, si può fare Si può fare una cosa del genere Si, si può fare Ok, perfetto Vai, prendi, prendi Persino Cioè, non so se avete visto sia la recensione sia il gameplay di quei due sul server Che hanno affermato che effettivamente Ori è uno dei platform più difficili Eh, di questa generazione circa Ciao, tipo Ti ho liberato Adesso, per favore Puoi darmi la cosa da No, non dirmi che scappi, brutta me Ma sei uno schifo Sei uno schifo Madonna Sembra una cacca, guardate Sembra una cacchina Ok, dobbiamo continuare Ori portò bontà e speranza nel suo cuore Sì Non ci credo Ho recuperato la vena d'acqua Finalmente Ho appena fatto un gesto col braccio che voi non state vedendo Allora, questa antica gemma ti permetterà di entrare nell'albero dell'abisso Ricorda, l'elemento delle acque si trova in cima all'albero ginzo Dobbiamo far tornare l'acqua a scorrere e ritornare immediatamente Quindi adesso Dobbiamo andare alla palude spinosa Di nuovo E noi siamo qua Ah, vabbè, non ci vuole molto Siamo al 74% della grotta lunare Poi tornerò Non so se off camera o comunque con voi A finire di completare tutte le aree Però alla fine del gioco vorrei fare questo Perché Lo voglio fare alla fine del gioco Semplicemente perché Cioè non si sa mai Metti che in quest'area ci dobbiamo tornare per fare qualcos'altro Esploriamo le zone che non abbiamo esplorato prima Cioè queste cose non si sanno mai Aspetta, che cazzo? Devo salire di qua o di là? Ok Perfetto Prenditi Ti prego dammi una gemma Vabbè Ora da che Che cosa cazzo è stato? Adesso con questa nuova abilità Posso fare un sacco di cose Questo mi fa capire Che sono stupida Molto stupida Ora stiamo andando In una zona nuova Che è quella Dove dovremmo mettere La cosa venosa Sì esatto Stiamo andando nella direzione giusta E quindi Madonna Questi blob del cacchio Che nei commenti ho letto Che si chiamano muffe Guadagnato puntabilità Oh figo Vai Utilizziamoli subito Questi due punti abilità Per potenziarci Questo Richiede due punti abilità E io ne ho due Cos'è che richiede? Colpo Fiamma divisa Fiamma veloce Fiamma divisa Cosa che vuoi? Fiamma incelerente Energia efficiente Fiamma caricata efficiente Beh Permettelo Colpo Fiamma divisa Boh Boh Non so cosa Vabbè Crenco Mediante L'anima Pristina Due cellule vitali Oh buono Sì 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 Mi piace Mi piace Mi piace Quello non so perché Non ce lo fa prendere Sinceramente Non ne ho idea Quindi se qualcuno di voi Sa il perché Lo scriva nei commenti Mettiamo qui L'avena d'acqua E attiviamo questa Potere Tra virgolette Vediamo Ottimo Ah quindi posso anche Entrare Oh questo deve essere Albero Ginso Una specie di boss O una cosa simile Un tempo le acque di Nibia Scorrivano proprio attraverso Questo albero Ora è marcia in secchietta Dobbiamo rispistare nel flusso E trovare il quale Dell'albero di Ginso Ah quindi sono entrata Adesso Devo utilizzare tutte le abilità Imparate Finora Finora Per fare non so Ah guarda È tipo un teletrasporto Ah ottimo No allora Aspettate Ok Tu muori Posso Uccidere sta roba E fare così Sì Sì però Tu non devi fare Lo stronzo Vaffanculo Tu e quante ne tieni Aia Ok Ah è stata abbastanza tranquilla Questa come parte Pensavo fosse un pochino Più difficile Sento lo so che adesso Arrivano veramente Le parti difficili Perché io ho visto Certe robe da quei due Sul server Che oh mio dio Mi sa che qualcosa Non si può uccidere Posso solo Evitarlo Infatti Andando di qua Sì decisamente di qua Qui Bisogna andare sicuramente Di qua Da qua Bisogna arrivare qua Da qua Bisogna andare Di qua Che No Sì Sì ma se tu Non me lo dici prima Io ci muoio Ok No 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 Sì Sì Vai col prossimo Andiamo Qua Salviamo E andiamo di qua Che ci fa saltare Cosa cazzo è successo Ok Non ho capito niente Di quello che è successo Ma non fa niente Distruggiamo sta roba E dobbiamo No Che cazzo fai Dove cazzo Vaffanculo Andiamo con calma Arriviamo di qua Facciamo le cose Con calmamente Tu ci muori Perché mi fai anche un po' schifo Di là ci posso arrivare Sì ci posso arrivare Vai Perfetto Tu ci muori Perché mi fai schifo E possiamo Andare di qua Che mi porta di qua Optimus Prime Vabbè Torniamo di qua E ci Andiamo E sono stupida Però non importa Perché tanto abbiamo Abbastanza Cellule vitali Anzi Adesso Ci facciamo Anche un bel Salvataggio Che cazzo è successo Vaffanculo Meno male che ho salvato Allora Questa è una Vaffanculo È una cosa tutta Di non cadere Nelle spine Dove Non mi sono trovata Allora Di qua Di qua Di qua Devo Cercare di Ma Perché Ok Ce l'ho fatta Salva 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 subito Maledetto Ok Ce la sto Abbastanza Facendo Allora Così sono Specie di Teletrasporti Questo Dov'è che mi Porta Ah Mi ha portato Qua E questo Che mi fa Fare Ah Mi fa Vai Esatto Perfetto Di qua E devo Prendere Quello lì Che sta là Ho capito Aspettate Come fa Ah Si teletrasporta E come facciamo Come Cazzo Lo porto Lì Ah Ho capito Come dovevo fare No Allora Mi devo suicidare Sì Mi devo suicidare Vai Uccidimi 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 Ok Questo va qua E poi devo spostare Questo di qua Aspetta che adesso ti sposto Ora dovrebbe funzionare Tutto Vai Allora Tu vai di là Vai di là Vai Da quel lato E poi Sì Madonna Madonna Cosa sei Charlie Vai Vai di qua E ci teletrasportiamo Qua Salva Perfetto signori Perfetto Questo gioco E' Una Una Genial Oh Shit Questo si che mi sa Di boss Da dove cazzo esce Questo tipo Aia Esce da lì Esce da lì Aia 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 E io Vaffanculo Sto stronzo di merda Vaffanculo Troppo Però dobbiamo fare in modo Di non morire Ok ok Ce l'ho fatta Ok Ha aperto sia di là Che di là Vai Andiamoci Aspetta Salviamo Perché sì E andiamo Ok Allora Qui come funziona Ok Di così Lì c'è No No Aia Aia E mo Ah di qua Ok perché Pensavo fosse più difficile Perfetto Dove sono Mi sono persa Dove cazzo Ah eccomi Non riuscivo più a trovarmi Perfetto Ce ne servono altre Dove le troviamo Uno Due Ma non possono stare tutte qui Quindi ne ho persa qualcuna Allora Innanzitutto Eh sì vabbè Innanzitutto Ma cosa Ok ragazzi Ce ne eravamo persa una E non me ne ero accorta Però come Come cazzo Sì Ok l'ho preso Oh Vai là Oh vai là Eh vaffaculo No mi sono Buggata No cazzo E mo Non so nemmeno come ho fatto Cazzo Ok l'ho recuperata Tutta adesso Vai Apriti Sedano E passiamo Forza Così si va Fantastico ragazzi Allora spero di riuscire a Un'altra abilità Sento urla Di sgomento Alla profondità Di quest'albero Anceo astrale Rim e raggi Scattavano l'aria Ascolta la sua voce Ascolta la sua voce Vabbè Non ho fatto in tempo a leggere Vediamo che cosa ci dà Cosa abbiamo imparato Ha imparato il colpo Per usare questa abilità Ti riempiono Y Le vigilance Della lanterna E dei proietti Di nemici E poi prendiamo In una posizione In cui vuoi affrontare Un balzo I proietti verranno In direzione Tra le decisioni Apposta No No Cos'è sta figata assurda Bellissimo Oddio Lo ammetto Lo avevo visto L'ho visto Già nei gameplay Però ho visto così Ancora meglio Cazzo Aspetta E qua come faccio Scusa Ah posso usare Anche i nemici Per il colpo Posso usare Anche i nemici Buono a sapersi Ora devo solo Ok Fantastico Devo solo imparare A padroneggiare Questo Nuovo Come distruggo Ah aspetta Ci ho capito Ci ho capito Quindi Se io vado Di così Ah Quindi Andando di No aspetta Aspetta Devo imparare A direzionare meglio Aspetta Perché voglio provare A distruggere E infatti Ho distrutto Quella roba Prendiamo E adesso Di nuovo Aspetta Così Perfetto È incredibile Questa cosa Vediamo se riesco Quindi Non ando di qua Vado di qua Quindi dovrei fare Una cosa del genere Tipo Così No 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 Ho sbagliato A direzionarla Perché Col controller È difficile Ah capito Devo fare andare Di là il proiettile No Ho fatto andare Dalla parte opposta In cui volevo farlo andare Ma cazzo funziona Questo direzionamento Eccolo Eccolo E no Deve andare più dritto Deve andare più dritto Andiamo Vediamo se va Sì È andato Aspetta E Se provassi a fare Una cosa Tipo questa Vai No Ah Aspetta Vai con questo Vai E adesso Eh no Devo farlo andare D'altra parte Cioè È fantastica Sta roba Ora però muori Perché mi fa un po' schifo Ok Eh Eh no Caspita Ma qui ci serviva Vai Vieni da me Vai Eh no Devo far andare Da parte opposta Mi dimentico ogni volta Questa cosa Quindi Se io vado di qua Il proiettile Andrà di là E io sono stupida Ho trovato Un'altra cellula energetica Fantastico Adesso ne ho Sei Perfetto Tu fammi tornare su Di là Madonna Questa cosa è bellissima Madonna Se è bella Vai Di là Fantastica Ehm Va bene ragazzi Io non so Quanto altro Tempo ci vorrà Ho sbagliato Quanto altro Tempo ci Sono stupida Non so Quanto altro Tempo ci vorrà Per recuperare La Per far ripartire L'albero di Jinso Quindi io direi Di fermare Qui l'episodio Perché è durato Abbastanza Io spero vi sia piaciuto Questo gioco Mi appassiona Sempre di più Spero che sia così Anche per voi Stiamo avanzando Un bel po' Adesso siamo In l'albero di Jinso Già al 60% Devo dire Abbastanza Non so Quanto altro Durere Quanto altro Durere Il gioco Però penso Piuttosto Tanto E ne sono Abbastanza felice Di questo E niente Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti